allora cari amici oggi siamo qua per parlare del mio prossimo corso online allora come molti di voi ricorderanno nel passato mese di novembre quindi prima delle feste natalizie avevamo concluso lo studio delle lettere minuscole della cancelleresca schematica quella che diciamo dopo come modello di lettera per il tracciamento lo studio appunto di una scrittura atta a restituire un corsivo diciamo elegante anche veloce ok allora avevamo concluso lo studio delle minuscole e adesso si tratta di passare nel prossimo mese di febbraio allo studio delle maiuscole quindi i giorni sono quelli che troverete poi nel posto accluso al presente video ma volevo parlarvi un attimo cioè qua l'argomento diventa ancora più interessante perché mentre le lettere minuscole diciamo hanno poche possibilità variative comunque già ce n'erano chi ha fatto il corso l'ha visto ma sulle maiuscole questa diciamo capacità di inventare di immaginare nuove lettere portata veramente all'eccesso nel senso che si possono fare tante belle cose allora molte le ho riprese da cose che ho visto in giro alcune le ho anche inventate io ma questo è un campo veramente elettivo per per quanto riguarda l'invenzione calligrafica se vogliamo su queste grafie allora vi faccio vedere ad esempio sto usando quella tavoletta che ho fatto vedere in questi giorni non è un tablet ma una semplice tavoletta che appunto mi restituisce un segno con uno strumento che dato al luopo assieme diciamo questa tavoletta che consente come vedete di tracciare dei segni percettibili ma poi decisamente a seconda della pressione quindi lo strumento molto interessante per prove diciamo abbozzi di lavoro e e questo qui ha proprio una punta come fosse una stilografica quindi io se lavoro così è sempre uguale è una scrittura diciamo ingessata monolinea vedete ma anche se faccio delle cose in oblique è sempre è sempre lo stesso ma è quello che mi serve perché perché mi rappresenta un po' una penna rollen una biro anche una stilografica classica e quindi è quello che mi serve in questo caso allora andiamo a vedere allora la lettera a cominciamo con la lettera a allora la lettera a si può si immaginare tantissime cose sulla ne abbiamo anche quattro allora abbiamo questa lettera fatta così che riprende un po' da un arrivo un po' dal corsivo inglese anche se non bisogna dimenticare che quello che sto facendo adesso è praticamente la mamma del corsivo inglese perché la cancelleresca parliamo periodo rinascimentale corsivo inglese siamo in piena rivoluzione industriale quindi 1800 poi possiamo immaginare facciamo una lettera un po' più cancelleresca che questa eccola qua qua la andiamo a chiudere possiamo possiamo ecco questa me la sono inventata io molto più gestuale un po' elaborata però io la trovo bellissima una bellissima A se no una A che andiamo a mutuarla dal corsivo americano possiamo anche immaginarci una lettera del genere andiamo a vedere cancelliamo tutto la lettera B allora la lettera B si presta veramente a tantissime variazioni anche questo posso immaginare una linea più leggera una più pesante quindi una B gestuale molto carina poi possiamo farla anche decisamente più semplice poi possiamo anche qua mutuarla dal corsivo americano è anche molto bella vedete qua possiamo proprio farla anche semplice semplice insomma questo sta ognuno anche perché poi ognuno ha un po' dei modelli qua possiamo veramente avvicinarci al nostro modo di scrivere mentre adesso andiamo a vedere la C poi facciamo ancora la D anche la E magari allora la la C invece non si presta a molte cose perché allora la C posso immaginare una cosa fatta così io poi a volte la C io poi a volte la A che poi avvicinare la C hai ognuno qua perché io ho un grosso bianco se no chiaramente va benissimo anche una cosa così eviterei quelle da corsivo inglese perché po' sì possono andare bene ma boh io personalmente preferisco queste poi insomma c'è quella più tranquilla così ma insomma non riesco a immaginare tantissime cose sulla C Sulla D c'è qualcosa in più. Ecco qua. Allora la D posso fare, come ho fatto per la B, un segno più leggero e poi questo grosso segno. Poi posso anche mutuare un bel segno che arriva dalla corsiva gotica, che è questo. Poi posso fare questo, posso immaginare quest'altro segno. Insomma ci sono diverse opzioni. Andiamo a vedere la E, poi mi fermo qua. Ecco la E, questa è tipicamente mia, ma anche poi insomma è Ernesto, quindi la mia E, diciamo così, veloce, corsiva, con questo stile, la faccio così. Ma se no, se ne possono veramente inventare. Ecco, anche qua eviterei questa, troppo elaborata secondo me, da corsiva inglese, non mi piace. Non mi dispiacciono quelle da cancelleresca proprio. Vedete, si può veramente, o anche delle cose molto molto più scheletriche, semplici. Questa ha tutto il suo valore. Vedete, molto bella anche questa, semplice. Insomma, non bisogna farsi strane lucubrazioni, ci va veramente poco. Un'ultima cosa che volevo dirvi, che vale un po' come cultura calligrafica e anche tipografica. Allora, quando si fanno le maiuscole, la cosa veramente più importante quando si fanno queste cose è sapere, ma questo vale anche per la calligrafia normale che ha fatto la cancelleresca con me. Cioè, se io immagino delle lettere che abbiano delle, io le chiamo le proboscidi, protumberanze verso il lato sinistro della lettera, non so. Parliamo della lettera P, che è un po' più semplice. Allora, la lettera P ho questa parte qua, che, diciamo, viene sulla parte sinistra dell'asta. Ecco, è sempre importante che questa zona di bianco sia molto grande e quest'altra molto piccola, perché se io faccio il contrario, ecco, come è venuta molto simile, ma va ancora bene perché questa è più grande. Ecco, non riesco proprio a sbagliare. Ok, allora, facciamola piano. Ecco, guardate, non ha molto senso. È un mostro. Questa qui è un mostro. Ok. Questa qui è una lettera elegante. Ok, allora, se io vado a vedere anche un'altra lettera tipica che abbia quella parte, diciamo, lì, andiamo a vedere adesso. Ok, ecco qua. Vi faccio una R. Allora, guardate come cambia. Sulla R posso immaginare, scusate, ho cancellato inadvertitamente. Allora, sempre mi piace questo contrasto iniziale. Guardate che eleganza la R, ma perché rispetto in pieno a quella cosa che vi ho detto. Se io l'avessi così, lo esagerate, ma guardate che bruttura, no? Quindi quella è una cosa che vale sempre, vale appunto anche sulla B. Diciamo, di qua posso sempre esagerare, ma di qua no. Ok, è una regola fondamentale di bellezza grafica ed è importante, insomma, dirla anche in questa occasione su una presentazione di un normale corso, ma è veramente una cosa molto, molto, molto importante quella che abbiamo visto qua. Niente, con questo chi è interessato appunto deve scrivere per l'iscrizione appunto a Penna Mania, mandare un'email come visualizzato, come indicato nel post. E niente, ci vedremo allora poi per chi vorrà continuare questo percorso, ci vedremo appunto a febbraio, ok, con questo corso che chiude, diciamo, il corso sul miglioramento della propria grafia. Con questo vi ringrazio e vi saluto. Ciao ciao e buona giornata a tutti. Ciao ciao e buona giornata a tutti.